Chi è Guillermo Ulucci? Come Leo? Leo, sono un grande stimatore. Mi arriva che vedessi un po' qualcosa con il nostro Tralero. Passate, passate. Ti e come amore ti temi sul Tralero? Ho sentito i video sul computer, mi sono appassionato. E ti piace più il Tralero o ti piace più le connessioni studiate? Tralero, forse. E a me sono orgoglioso che ti fassi avanti e accanto, non è vero. Chi è io penserebbe che facciamo una cosa simpatico, senza bassi, senza contratti, senza niente. E vorrei che non ci fassi una, ma venga venga, 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 venga. I tre, venga, insieme. Insieme. Tutti due. Grazie mille. vi ringrazio questa cosa che ammettiamo sul canale tutt'aliero, salutiamo tutti e mi ringrazio questo verso netto che va avanti con la detta e meno male con la Rio grazie